L'Italia Bruno Chimirri, Tower Mouche, dieci anni, stalone francese Diamant, il padre, qualche attimo prima della partenza L'Italia che arriva qua molto più tranquilla, più serena, ma bisogna figurare bene anche nell'ultima tappa Numero 1 subito in avanti, molto attento, determinato fin dall'inizio E sfiora la tavola, viene giù, arriva l'errore per Bruno Il controllo, la doppia gabbia, una leggera incertezza, deve aiutare, ancora aiutare per l'uscita 4, 5, 6, 7 tempi, verticale Chiedito in avanti La riviera ora, mano destra Viene superata senza problemi Verticale numero 7 3, 4, 5 tempi, la pressione Lui che era stato fondamentale l'anno scorso per la vittoria Proprio qui a Dublino Vittoria conquistata al barrage Barrage Davvero emozionante Secondo errore sul percorso, sono 8 le penalità Ora la girata, mano destra per chiudere la sua gara Ancora un errore nel finale, nel tempo Sono 12 le penalità di Bruno Con il suo Tower Mouche Grazie a tutti Grazie a tutti